Praticamente per chi non lo sapesse Wattpad, non so se tu lo sappia, ma è praticamente una piattaforma marcia dove ci sono un sacco di fanfiction, ma le fanfiction sono scritte da ragazze, da bambine molto giovani che, capito, scrivono cose sui loro idoli e io si atto dalle risate. P.O.P. allucinanti, cose che ragazzine di 14 anni non dovrebbero sapere, non dovrebbero scrivere. No, ma infatti non le sanno, il fanbottoli di questa roba. Basta, non prendi il discorso PlayStation 5, per favore, che io non ce la faccio più, perché... E invece parliamone, tra l'altro nel mio sfondo forse un po' si intravede, si vede in alto la Xbox Series X e in basso di fianco... Vedo l'angolettino marcia, guarda, mi fa proprio tiè, tiè. Esatto, è lì che dice, suca, suca. L'unica di scorso un mio amico, che ha un negozio molto, insomma, molto grande di tecnologia, ha deciso di farmi questo regalo e mi ha detto, Leo, vuoi la PlayStation 5? Che cazzo, come me lo chiedi? 30 anni, non ho sempre avuta, ma assolutamente che la voglio. A few moments later. Lo chiamo venerdì mattina e faccio, senti, Giovanni, ma dov'è la Play? Lui fa, ma come, Leo, ma te l'hanno consegnata ieri? Il genio del fattorino aveva lasciato il pacco fuori dal portone di casa. Io ti giuro una cosa, Sba, te giuro che se mi perdono anche questa PlayStation, io te lo giuro e compro Xbox. Eccolo, il nostro cicciopanzo preferito. Amore. Cioè, l'occhietto un po', come dire, un po' stavo dormendo cosa vuoi dalla mia vita. Inizio a sentire una puzza di cacca allucinante. No! Ma più di quando, lui molto spesso fa lo stronzio e la fa di fuori. Mi accorgo che il robot aspirapolvere aveva aspirato tutta la merda. No, no, no! Perché non solo lo aveva aspirato, adesso lo sto seccando fuori, ma l'ha ovviamente spalmata su tutto il pavimento. No, ti prego, questo è il mio incubo. Praticamente ha tutte le ruote incatramate e tutte le venti, le, 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 come si chiamano? I rulli? I cosetti davanti, i rulli praticamente sporchi di cacca. No, raga, sto male. Tipo il pane in Nutella è successo. Ho ricomprato la stessa televisione a distanza di tre anni, cioè perché? No, è il modello nuovo. Perché ovviamente nel trasporto del trasloco da Milano a Valencia mi hanno sfasciato la televisione. Ah, perfetto. Totale, ma Dio, proprio morta. Cioè, me l'hanno sfasciato in tre punti. Pensate che ripararla mi costava più che costruirla a mano con i pezzi della Lego. Oddio ragazzi, il mio gatto finalmente ha notato le luci che si muovono sul soffitto, è finita. Adesso sta facendo un viaggio a... Sì, sì, si sta facendo un viaggio nel tipo LSD. Tu sai che è Rosario Muniz? Sì. Ti prego, fammela. Non dire cose però, eh. Vai. No, no, no. Ciao, sono Rosario Muniz. Questo è... Oddio, c'è un uomo che mi sta guardando dalla finestra. Aiuto, mi sta guardando. Aiuto, non mi trattare. Io sono stato fidanzato, avevo 17 anni, con un catfish per un mese. Mi dice, sto arrivando. Tre, due, uno, sparita. One eternity later. Dopo la settima ora mi risponde, mi ricordo tutto come se fossi bene, mi fa scusami e che sei, mi sono emozionata nel vederti, mi sono spaventata. Ho detto, oddio, che carina sta ragazza. Seconda volta. Dico, vabbè, ci rivediamo settimana prossima. Succede la stessa cosa. Dico, vabbè, mo' mi ha rotto il cazzo. Mostravo... Mi faccio il coglione, cioè se racconto sta roba. Mostravo nel portafoglio tipo qualcosa, facendo finta di essere un poliziotto. No, what? Stavo detto, ero giro su mia madre, fermavo le persone e dicevo, sentite, conoscete questa persona, si chiama Valentina Tarducci. Eh, niente. La gente diceva, no, mi dispiace, non la conosco, facevo della foto, eh. A un certo punto un ragazzo mi fa, io la conosco questa ragazza, ma è di Roma. Mi ha fatto vedere che avevamo lo stesso numero. No. Ma dai 25 anni, Alessia, io ti voglio un bene dell'anima, ti accenderò un cero in chiesa perché tu viva fino a 200 anni, ma... Però te l'ho detto pure io l'altra volta, eh. Ma raga, io non so. Cioè, ma magari. Io ho la scucchia. Cos'è la scucchia? La scucchia, c'è vita vecchia, il mento che esce un po' più fuori, tipo Hercules. Cioè, tu hai il contrario di me, io il mento non ce l'ho, edi. E io l'odio. E tu hai il mento... Cioè, coprino, l'ho preso da mia mamma. No, è bello, invece, è mascolino, sta bene. Ma non è vero, cioè, posso appoggiare le penne qua sotto, si mettono... Le penne! E giustamente Martina dice, che fai nella vita appoggio penne al mento? Vabbè, se fosse stato un an in meno era tutt'altra professione. Vabbè! 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 Grazie.